Non si ferma l'azione della Giunta Rucco contro la piaga dei mendicanti molesti e dei parcheggiatori abusivi in città. Operazioni mirate nei luoghi più a rischio, un bilancio che in queste ore supera i 240 interventi in 8 mesi. Vuol dire più di uno al giorno, in particolare in alcune aree della città, Parco Rodolfi dell'ospedale è un esempio, Parc Cattaneo, sono quelli più rappresentativi. Il prefetto ha voluto fare questo tavolo per capire il punto della situazione e collaborare con le forze di polizia locale, di questo lo ringrazio, per fare alcune operazioni mirate per debellare questo fenomeno. Sorvegliati speciali, tre parcheggi a pagamento accanto all'ospedale San Bortolo, dove sono presenti abusivi e persone che chiedono le lemosine in modo molesto e insistente. 245 controlli solo in via Rodolfi, dove gli agenti della polizia locale hanno contestato 30 verbali a cittadini romeni. Da cui la proposta del sindaco di continuare i controlli individuando in accordo con il prefetto altri strumenti come i d'aspo, ma non solo. Il primo cittadino pensa anche a una revisione dei parcheggi dell'area per garantire più sicurezza e decoro. Le prossime azioni verranno concordate in modo sinergico con le altre forze dell'ordine. Dobbiamo lavorare molto in Sistere per ripulire queste zone di parcheggio dove ci sono effettivamente delle aree dove l'accatonaggio è particolarmente molesto. Se ne occuperà un tavolo tecnico in questura concorderemo quindi con loro le singole operazioni che verranno fatte sicuramente nei prossimi mesi.